Presentato presso il Palazzo d'Orleans, sede della regione siciliana, il Giro di Sicilia Credit Agricol 2023. Quattro le tappe in programma, con partenza martedì 11 aprile da Marsala e gran finale venerdì 14 in quel di Giarre. La corsa toccherà buona parte dell'isola con quattro tappe emozionanti. Si partirà quindi da Marsala, mentre l'ultima tappa terminerà a Giarre dopo aver scalato l'Etna. Al via 25 squadre provenienti da tutto il mondo. Annunciato tra i partenti il vincitore dell'ultima edizione Damiano Caruso e il campione olimpico su pista Elia Viviani. L'11 aprile prima tappa Marsala Grigento 159 km, il 12 di aprile la seconda tappa Canica T Vittoria 193 km, 13 aprile la terza tappa Enna Termini Mierese 150 km, ed infine la quarta tappa il 14 di aprile Barcellona Pozzo di Gotto Giarre con 216 km. Di anno in anno ovviamente ci miglioriamo perché l'organizzazione ormai è abbastanza rodata, scegliamo sempre delle tappe che possano mettere in risalto la bellezza di quei luoghi, di anno in anno cambiando ovviamente le tappe e quindi facendo diventare e rendendo protagonisti diversi comuni della nostra bellissima Sicilia. L'elemento più importante è la Sicilia che è una regione stupenda e una volta di più quest'anno toccheremo delle tappe e delle aree che non abbiamo mai toccato, ci sono delle tappe inedite con delle caratteristiche molto particolari che saranno un elemento sostanziale dal punto di vista sportivo per tutte le squadre, avremo 25 squadre che parteciperanno quindi il massimo possibile, 175 atleti, abbiamo 5 squadre World Tour, dei protagonisti secondo me molto interessanti che si sfideranno e potranno trovare qualunque tipo di caratteristica, dallo sprint dei velocisti alle tappe mosse e con una bella tappa di salita con il re delle salite che è l'Etna. Grazie a tutti.